Assegniamo il capitano, mettiamo la fascia, vai capitano, grazie per essere riconosciuti. La prenotazione è questa qua, allora ascoltami, la prenotazione è, il capitano si deve, il capitano alzare il piede e dire il nome del tavolo di prova. Facciamo le tre note della canzone di prova, silenzio. Muscini di campagna, titolo della canzone, cantante, esatto, esatto, andiamo con la base. Facciamo le tre note, vai. No, non è luce a Sanzino, non è luce a Sanzino, attenzione. Allora, dito della canzone. Sanzano, attenzione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.